28 dicembre 1943 I sette figli del contadino emiliano Alcide Cervi vengono fatti fucilare nel poligono di Reggio Emilia. A ordinare la morte sono le autorità fasciste come rappresaglia per un'azione dei gap comunisti. Partigiani fra i 42 e i 22 anni della loro morte non viene data notizia per lungo tempo.